Una buona giornata amici del centro medio italiano. Condizioni di tempo instabile in queste ultime ore a causa del transito di una saccatura di bassa pressione sulla nostra penisola dove si prevedono piogge e temporali anche intensi, specie nel pomeriggio sui settori alpini e sulle pianure adiacenti nonché sulla dorsale appeninica. Ma vediamo nel dettaglio la previsione medio per i prossimi giorni della settimana sull'Italia. Secondo il nostro modello di calcolo e tenendo da conto il periodo in atto, la fase di tempi stabili interessa l'Italia ma solo fino alla giornata di martedì 6 giugno in quanto una nuova rimonta dell'anticiclone è prevista già dalla giornata di mercoledì con condizioni meteo più stabili e sole prevalente specialmente sulle regioni centrosettentrionali italiane mentre al sud saranno ancora possibili qualche pioggia o rovescio. Il tutto accompagnato da temperature insensibili aumento con valori sopra la media del periodo specialmente verso gli ultimi giorni della settimana con punte fino a 35 gradi sulle isole maggiori e sulle valli del centro del sud Italia. Attenzione pertanto alla prima ondata di caldo della stagione estiva con tutti i dettagli in merito nei prossimi video. Per il momento è tutto, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti consultando le previsioni del tempo su tutte le località italiane anche tramite l'app Meteo. Un saluto e una buona giornata!